Ma Pistole, ma siete salite sugli alberi? Bravo! Carlotta, Laura, dove sono? Guarda le lettere! Prima giocavano di brutto! Coraggio Melissa! Michelle! Michelle! Sì dai, quella col testino bianco è Michelle! C'è il suor Michelle! Guarda le altre due, guarda le altre due se sono belle! Ciao! Oh Dio, sono belle! Ma guardatele lì! E prima c'era la Carlotta che piangeva, ma no, non so, sorrino mio, non devi aver paura! Tesoro, nessuno ti porta via il tuo affetto! Oh, e là! E che si fa quello là sotto? Salute anche te! Bravo! E' un piccolo!